Benvenuti nel canale YouTube di Quistudia Voi Stadio, si è appena conclusa la partita dell'Inter, vittoriosa sul Toro per 3-2, un 3-2 sofferto, sofferto, troppo sofferto, perché alla fine il Torino ha giocato in dieci uomini dal diciannovesimo del primo tempo per l'espulsione di Marepama, grazie anche all'usilio del VAR per un'entrata brutta sulla caviglia di un giocatore dell'Inter, nella fattispecie di Turam, ma è stata una partita che ha detto tanto, perché con una squadra in dieci l'Inter tendenzialmente ha gestito la partita, ma poi ha finito soffrendo troppo, per una squadra contro un avversario in dieci uomini, dopo che vai sul 3-1 non si può soffrire in questo modo, l'Inter ancora una volta subisce due gol, è già successo col Genoa, è già successo con l'Udinese, è già successo col Milan, Sono quattro le partite nelle prime sette dove l'Inter subisce due gol e questi sono numeri che contano, numeri che pesano, perché? Perché ti fanno dire che difficilmente una squadra che subisce così tanti gol può lottare per il campionato. In Italia non funziona così, in Italia non si gioca per fare un gol più dell'avversario, in Italia i campionati si vincono blindando le difese, non subendo gol. E anche la partita di oggi ci racconta di una squadra comunque in affanno, come se dietro avesse smarrito quelle certezze che aveva cementato un anno fa. Un anno fa quando tu vedevi giocare l'Inter avevi la sensazione che gli altri non riuscissero mai a tirare in porta, che non riuscissero a far gol, qualsiasi cosa accadesse. Quest'anno invece appena transita un pallone dentro l'area di rigore ti viene un po' la paura perché sai che una spizzata, un flipper o in qualche modo il gol lo prendi. Ed è una situazione a cui non eravamo più abituati a vedere a San Siro e questo è secondo me un aspetto su cui bisogna lavorare. Bisogna lavorare perché il Tor oggi in dieci uomini non può mettere in affanno una retroguardia. Anche oggi c'è stato un errore in fase difensiva perché il primo gol è su una disattenzione di Bissec, un'altra, ma non solo di Bissec perché poi anche Darmiana, che oggi non ha fatto una bella partita, ma a Darmiana gli si può concedere, non era in posizione. E quindi il lato scoperto è comunque Zapata, a cui facciamo un grosso in bocca al lupo e speriamo che non sia nulla di grave al ginocchio, nulla di particolarmente grave, anche se le immagini ci fanno pensare al contrario. E Zapata ha fatto un bel gol. E poi nonostante quello l'Inter ha rimaccinato gioco, ha provato, anche se con una certa lentezza, con una certa fatica, oggi devo dire che la prestazione di Frattesi non mi è piaciuta per nulla. Io amo Davide, ma oggi la prestazione non è da Frattesi, ma anche la prestazione di Lautaro non è da Lautaro perché non si è visto praticamente mai in 90 minuti, sì, con un colpo di testa, però è troppo poco. Lo sappiamo che non sta bene, però la differenza rispetto alla prestazione di Turam, rispetto alle strappate di Turam, rispetto alle giocate di Turam è abissale. A me, anche quando è entrato in campo negli ultimi minuti, Taremi mi è parso molto più vivo, molto più incisivo rispetto a Lautaro Martinez, che evidentemente ha ancora bisogno di fare qualche settimana di lavoro per ritrovare la condizione fisica migliore. Increscendo invece la prestazione di Mkhitaryan, che non aveva iniziato benissimo, ma poi è cresciuto nel corso della partita e le nostre certezze sono di Marco, ancora una volta uno dei migliori in campo, ma lo è da inizio campionato. Un giocatore su cui io sinceramente, prima in telecronaca dicevo, non sbaglia un cross neanche a pagare. Ogni cross è sempre una palla velenosa, pericolosa, che mette in difficoltà l'elettroguardio avversario. Anche oggi ha avuto un'altra palla a gol, su cui è stato bravo anche il portiere del Torino, e poi bastoni. Altro giocatore, vale lo stesso discorso che ho appena fatto per Di Marco. Ogni giocata non è mai banale, ogni cross non è mai banale, e non è un caso che gli assist per i gol arrivino dai piedi di bastoni, che arrivano ai piedi di Di Marco. Quella è una catena che in questo momento è la fortuna dell'Inter. È inutile che ci giriamo attorno. Quella è la fortuna dell'Inter di Inzaghi in questo avvio di campionato, perché si fa forza soltanto da quella parte. Oggi a destra l'Inter è stata assolutamente zero, fin quando non è entrato Dunfrise, perché oggi Darmiana non ha provato neanche mezza volta a saltare l'avversario. Io credo che vedendo la partita non è mai così. Ho la sensazione che magari non stesse neanche benissimo. Però sono cose che noti, sono cose che vedi, perché a destra Darmiana non è neanche mai stato in condizione, non ci ha neanche mai provato a saltare il diretto avversario per mettere in mezzo qualche pallone interessante. Abbiamo giocato solo alla sinistra e questo è un dato. Peccato per il rigore, perché è netto nulla da dire. Ho la sensazione che Masina per la giocata che stava facendo non sarebbe andato verso la direzione della porta, ma verso il fondo campo. L'intervento di Celanoglu, secondo me poi lui si è accorto di essere arrivato in ritardo, di aver fatto un'entrata sciocca, ha provato ad entrare sulla palla, poi Masina l'ha anticipato, gli ha preso la pianta delle piede, quindi da quel punto di vista lì non c'è neanche da discutere. Peccato perché poi era una partita abbastanza incanalata, indirizzata con un toro che era venuto qui a fare le barricate con l'Inter che una volta che aveva sbloccato la partita aveva tutto per poterla gestire e invece si è complicata da sola commettendo degli errori e delle sbavature che è una squadra che vuole lottare e che l'anno scorso ha vinto un campionato in carrozza che ha fatto molto bene in Champions League e non può permettersi di fare. Non capisco se queste sbavature difensive siano anche per colpa di una condizione fisica ancora non ottimale o se perché la squadra ha perso quelle certezze che l'anno scorso aveva saputo cimentare in un percorso netto, fantastico, meraviglioso. Quindi ci sarà ancora, c'è ancora del lavoro da fare ma si sa ancora la condizione fisica non è ottimale e lo vediamo. L'Inter sta attuando un turnover massiccio, una delle squadre che ha fatto più turnover in questo avvio di campionato. Evidentemente il fatto che siano arrivati tutti a blocchi non ha agevolato sicuramente questa cosa però va bene. Va bene aver portato a casa i tre punti, va bene guardare la classifica e restare attaccati a chi è davanti e che continua a vincere. Si vince anche con le difficoltà, anzi, e a volte è più importante vincere le partite nella difficoltà perché ti aiuta a dare anche quel carattere in più, quella convinzione in più che in alcune circostanze può mancare. Quindi si portano a casa a tre punti pesanti contro un Toro assolutamente ben messo in campo che fino alla partita scorsa è stata la squadra di rivelazione del campionato che ha dato il fio a torcere anche stasera all'Inter, anche nonostante l'inferiorità numerica. Ben messo in campo e secondo me Bonoli è uno dei migliori allenatori che stiamo imparando a vedere in questa Serie A e che credo che sarà uno da osservare con grande attenzione. E poi si porta a casa anche al di là di tre punti la bellissima prestazione di Turano una tripletta, ma non solo una tripletta, giocate pesanti, giocate da leader giocate da giocatore che ormai non è più una sorpresa ma che sta diventando sempre più di più una certezza nella speranza che poi Lautaro Martinez ci metta ancora poco per ritrovare la condizione migliore perché l'Inter ne ha bisogno, ne ha bisogno di Inzaghi ne ha bisogno della squadra, ha bisogno del suo leader, del suo capitano e speriamo che poi la condizione atletica cresca un po' anche in tutti gli altri perché in questo momento gli unici in condizione sono Bastoni, Di Marco, Cialanoglu possiamo dire così e adesso Turam che sta crescendo gli altri ci stanno un po' mancando. Io mi devo fermare qui, vi ringrazio per averci seguito e ci rivediamo alla prossima. Ciao!